Musica Buongiorno a tutti da Volonbride La giornata di ieri 30 giugno, qui alla Salute in Comune, si è aperta con l'estate bimbi alle ore 14 con attività ludiche tenute dalla cooperativa CISV. Alle 15 si è tenuto il laboratorio di scrittura creativa 1 con Marco Berton dell'associazione Volonbride. Alle ore 19 la pericena culturale col tema housing sociale. Alle ore 21 pillole della salute con il tema residenze temporanee. Alle ore 22 la serata si è conclusa con l'inizio del concerto di musica popolare del Ding Dong Duo. Dalle 19 alle 24 l'area espositiva promozionale e vendita con Bottega Ingegno, Associazione Terra Mia, Associazione Acmos, Cooperativa Sinergica, Cooperativa Il Punto, Associazione Coabitare, Associazione Social Club, Consorzio Kairos e Società Sharing. Adesso Sara ci dirà il programma di oggi. Oggi il tema del giorno sarà COSELING, professione d'aiuto. La donata inizierà alle 14 con attività ludiche per promuovere corretti stili di vita con la cooperativa CISV. Alle 14 ci sarà laboratorio di attività Palla Cometa e Girandola, Arte Pura Cooperativa, Cronos e Consorzio Riso. Alle 15 invece ci sarà laboratorio Benessere Makeup Therapy dell'Associazione Verba e Servizio Passepartout. Alle 19.30 ci sarà la pericena culturale e si parlerà di COSELING, caratteristiche di una professione emergente. Alle 21 invece è il turno della pillola salute e si parlerà di benessere in azione con dialogo ed ascolto della SICO. Società italiana di COSELING. A chiudere la serata sarà il concorso Talent Garden seconda edizione. La serata sarà accompagnata da una dispositiva per promozione e vendita con Bottega Ingegno, Associazione Terra Mia e SICO. Adesso mi resta che augurarvi buongiorno. E buona saluta a tutti. Ciao. Ciao. 模uut잖아 100-01-804-175-187- Tunnic. Ciao. Ciao. clue. So. Diario. guerra fertile. macro. 고요. False. Assembly. Tip Inn staff. Grazie a tutti.